Pochi minuti dopo le 10, una cerimonia brevissima e davanti a poche persone per l'insediamento a Campobasso del nuovo procuratore generale. Mario Pinelli firma davanti al presidente della Corte d'Appello, Rossana Jesu Lauro, che lo saluta con una battuta, benvenuto a bordo. Pinelli, 63 anni, subentra al procuratore reggente Antonio Larana e abruzzese di Avezzano, poco dopo aver assunto l'incarico, le sue prime dichiarazioni a Telemolise. Io penso che troverò in Molise un ambiente del tutto analogo a quello che ho avuto modo di apprezzare in Abruzzo, regione nella quale vivo e nella quale ho lavorato per 20 anni in uffici di procura. Quindi suppongo che ci siano delle realtà sia a livello sociale sia a livello professionale del tutto analoghe. Molise è una regione molto piccola, è un posto tranquillo, viene molto spesso descritta così. Negli ultimi anni però ci sono stati dei campanelli di allarme, si parla di possibilità di infiltrazioni dalle regioni limitrofe. Con il Covid questa cosa si è accentuata perché il tessuto economico è diventato molto più fragile. Ecco, secondo te quali sono i punti da tenere, gli aspetti da tenere sotto controllo di più in un territorio come quello molisano? La situazione indotta dal Covid è una situazione che può determinare delle ricadute anche dal punto di vista della criminalità. Perché si determina un impoverimento del tessuto sociale e quindi ci sono delle situazioni che possono determinare delle derive di carattere appunto delinquenziale. E allora è necessario in queste realtà, che ancora fortunatamente sono poco toccate da certi fenomeni criminali di alto profilo, insistere, io dico, non tanto sull'aspetto della legalità, che è pur importantissimo, quanto su due profili fondamentali. Quello della istruzione, quindi l'aspetto della scolarità e l'aspetto del lavoro. Sono i due aspetti fondamentali sui quali non bisogna assolutamente fare in modo di trovarsi indietro perché la criminalità, soprattutto quella organizzata, occupa immediatamente le aree che sono determinate dalla caduta di questi due profili, quello della scolarità e quello del lavoro. Pinelli ha alle spalle un'importante carriera, arriva dalla Cassazione, noto in particolare per essersi occupato di una delle vicende di cronaca che hanno più colpito il paese, il delitto della studentessa Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007. È stato un processo che sicuramente ha avuto una eco importante, anche se l'aspetto relativo all'attività svolta da un ufficio come la Cassazione non può essere paragonata a quella di un ufficio investigativo di primo grado, che sicuramente ha vissuto la stessa vicenda in maniera totalmente differente. In Cassazione si valuta naturalmente il profilo della tenuta dal punto di vista normativo, della legittimità e quindi però è stata un'esperienza importante.